Parliamo oggi di terapia autologa rigenerativa tecnica se filler, l'utilizzo delle cellule del paziente, degli esosomi del paziente, delle cellule staminali del paziente per ringiovanire, ma soprattutto per fare la cura dei tessuti. Qual è la grande differenza nella terapia autologa rigenerativa se filler rispetto a qualsiasi altro filler non autologo ovviamente? È che col passare del tempo, se si utilizzano dei filler, si finisce per avere delle facce gonfie, cioè si continua a riempire, a gonfiare, a fare un effetto filler appunto per contrastare l'invecchiamento, quindi non si va a curare la causa, non si va a migliorare i tessuti, ma si va a gonfiare i tessuti. Quando noi facciamo la terapia autologa rigenerativa se filler, noi grazie alle cellule del nostro paziente andiamo a curare i tessuti, quindi col passare del tempo invece di avere un effetto che alla fine deforma il viso e i lineamenti dei nostri pazienti noi andiamo a migliorare i tessuti in modo naturale e a curare la pelle dei nostri pazienti utilizzando le loro cellule, quindi massima sicurezza, massima naturalezza e massima efficacia.